Musica 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 Ciao! Ciao a tutti, io sono Yoko e oggi è la prossima di The Thailand. Scusate che non mi ha avuto, ma mi ha avuto la mia visita, che non mi ha avuto il video, ma non mi ha avuto il video di oggi, quindi vi faccio il video di oggi, oggi è la misa di Dantello, quindi andiamo a fare la misa. Abbiamo con Titus per parlare, quindi abbiamo parlato. Ci ragazzi sono molto freddi, freddi, Oggi si fanno male, cose possono essere pelle. Come ti fai per la città e prendici qualcosa di cibo, no? Non posso stare qui. Non posso farlo. Non posso. Gin non può capire questo. Sì, per favore. Tairus Massimo, che ci stai passando da questo passo. Sì, mi sono stato spettato Non ci sono Non ci sono Ci sono anche un sfendaccio Non ci sono tutti Ci sono ancora qualcuno Ci sono tutti Ok, adesso andiamo in un'altra brazione e poi abbiamo un'altra brazione e poi abbiamo un'altra brazione e abbiamo un'altra brazione e abbiamo un'altra brazione e non abbiamo un problema e non abbiamo un'altra brazione ma qui c'è qualcosa? è una buona sicurezza è più importante che la katana o tu c'è qualcosa bierò 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 tu possiamo drzwi i tu c'è tu c'è tu c'è bierò bierò i jeszcze lepsza strażacka tu będą zombie masakra ale mam dobrą broń no skurdy nie trafiłem z niego idziemy z niego rzucać i po nim mamy zaktualizowane musimy wrócić do Titusa wyzmiamy sobie śkierę zobaczymy co tu jest jeszcze kurde muszę to przytrzymać ale nie coś tu jeszcze macie zimki nie macie nic takiego on nóż jakiś ten nie żyje wolę sobie tutaj sprawdzić nie owoc zjemy sobie na spokojnie oczyściliśmy im to jest pełne żarcia więc jak to w kuchni patelnią nie będziemy bić to jest to co ja mówię to jest to co ja mówię o tym to jest to co ja mówię kiedy jesteś tak głodny to wszystko tak? dobra bierzemy to co on ma pistolet jakiś dobry lepszy niż mój karabin albo szczylba nie gorszy dobra to w sumie chyba tyle tak ile mamy procent gry? jeszcze 4% więc na spokojnie sobie to ogarniemy jeszcze ja się z wami żegnam to już jest koniec tego odcinka jeszcze chciałbym was zaprosić na naszą stronę internetową www.streammania.pl znajdziecie tam link do naszego discorda gdzie tworzymy wspaniałą społeczność jest dobra atmosfera poznacie innych streamerów youtuberów i możecie z nami nawiązywać kontakty chciałbym was jeszcze zaprosić na moje social media czyli facebook i instagram oraz mojego twitcha gdzie streamuję w sobotę i niedzielę od 10 do godziny 12 i to w sumie na tyle ja się z wami żegnam oby jeszcze te dwa dni do weekendu wam szybko zleciały i trzymajcie się dzięki za to że jesteście ze mną ja się z wami żegnam i miłego dnia cześć